Di recente Vittorio Feltri, il direttore di Libero, ha fatto un show vero e proprio in televisione, in particolare avrebbe detto Ho fatto il tampone, ora ne farò un altro, sai non si sa mai la mia età, visto che i vecchi stanno sui coglioni anche a Conte Hanno deciso che dopo una certa età non si esce più di casa Lo ha detto proprio Feltri, avrebbe detto queste parole che poc'anzi vi ho enunciato al programma Fuori dal Coro su Rete4 E poi Feltri avrebbe attaccato i medici, che stanno sempre in tv invece di lavorare Tutti questi professoroni fanno i bulli in tv, così avrebbe detto il buon Vittorio Feltri Ripeto, al programma di approfondimento politico Fuori dal Coro che è venuta su Rete4 Questo dunque sarebbe quanto, vi ringrazio per l'ascolto e il video termina qua Iscrivetevi se vi va, commentate, fornitevi la vostra opinione In base a ciò che Feltri Vittorio, direttore attuale di Libero, avrebbe detto In tv, a Fuori dal Coro su Rete4 Ciao, grazie da Leandro, il narratore italiano di YouTube Italia Questo video non vuole rendere la sua privacy, ma informare e basta Unicamente per questo motivo nasce Grazie a tutti